non era previsto è non era previsto per forza di cose è un video che non era previsto però un video che devo fare perché se non mi metto a fare questo video so che che faccio un torto a me stesso per una volta voglio essere un po egoista e quindi pubblicarlo l'ho postato anche come stato voglio tornare a prendere i punti salienti e spiegarvi il perché sono un pochino scoraggiato un pochino abbattuto perché sta diventando veramente impossibile parlare di calcio su internet se non impossibile difficilissimo possiamo dire così ve lo dice uno che è iniziato dieci anni fa nel 2014 nei social network erano praticamente alla base gli albori anzi diciamo c'era tutta era anche un po da sfigati stare sui social network a scrivere cose o esprimere opinioni decine d'anni fa e visto come lo scemo del villaggio oggi invece è diventata una cosa normale una cosa diffusa e da questo passano delle gioie perché ovviamente c'è più possibilità di dialogo ma arrivano anche dei brutti momenti e cioè quella più possibilità di dialogo che diventa impossibilità di dialogo perché c'è troppa arroganza oggi le persone sono troppo arrabbiate attenzione non è che lo sono oggi sono sempre state le persone arrabbiate ma oggi vedono il social come lo strumento per sfogarsi a lavoro mi è andata a storto una cosa la fidanzatina mi ha lasciato l'esame non è andato come previsto la macchina ha forato una gomma uso il social per sfogarmi leggo una cosa è un coglione quello che la scritta ho ragione io ovviamente questo non è qualcosa di generale per fortuna come dicevo prima sono tante possibilità di dialogo e in questa community in questo canale sono contentissimo di avere una marea di commenti che vanno nella direzione del dialogo dello scambio delle opinioni tant'è che io tutti i video vi continuo a dire fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti perché diventano spunti di riflessione nelle opinioni le condivisioni leggere qualcosa anche che va contro la tua idea qualcuno mi dice non sono d'accordo con te la cosa più bella che c'è e mi spiega il perché e nasce uno scambio di opinioni un dibattito uno scambio di battute è la base del concetto di miglioramento uno che invece è chiuso arriva tu hai torto io ho ragione tu sei un coglione io sono un genio non va nella direzione del dialogo va nella direzione del distruggere il dialogo perché la gente cosa fa ascolta tre minuti di video un video di 30 minuti ascolta due minuti di video o nemmeno legge il titolo o nemmeno legge quello che metti nella miniatura o nemmeno ma magari nemmeno quello entra e digita dio santo ma ascolta se sei qui se arrivi qui se arrivi a rispondere a un mio post a un mio video a un mio reel a qualsiasi cosa leggi o ascolta quello che ho da dirti prima poi dimmi quello che vuoi spiegami la tua posizione fallo nel rispetto fallo nell'educazione ma ascolta non farti in mente non farti venire in mente già quello che secondo te dirò o non partire col presupposto che sono un coglione te sei un genio parti col presupposto che si può avere uno scambio di opinioni invece no parole messe in bocca cose mai dette che diventano magicamente vere poi magari uno va a leggere nei commenti atto sei letto così ah beh allora è un coglione magari non ho mai detto si commenta una singola frase all'interno di un discorso di 30 minuti prendi un discorso lo rigiri completamente ha detto così no vabbè ha detto un'altra roba fa lo stesso per me ha detto così ma ragazzi ma dove siamo al circo ma la capacità di comprensione del testo una cosa che si apprende alle scuole elementari è scuole elementari e a volte ripeto si tratta di educazione per me questo problema nasce dalla politica e voi direte che cazzo c'entra la politica per me questo problema nasce dalla politica da quando la politica ha iniziato a usare internet come vero e proprio strumento di campagna elettorale è diventata una merda una merda tutto una merda perché l'unico modo che hanno oggi politici di qualsiasi partito non venite a dire destra sinistra centro non me ne frega niente non fatemi nomi non fatemi le posizioni non ditemi l'ideale non me ne frega niente tutti perché tutti fanno così dalla maggioranza all'opposizione a quelli che nascono per essere il partito alternativo tutti cosa fanno social videino post immagine noi siamo i più bravi gli altri sono dei deficienti e questo modo di estremizzare perché questo un modo pericoloso di estremizzare dei concetti e a volte anche di prendere ancora una volta dico in maniera pericolosa dei trafiletti farli propri strumentalizzarli da quando la politica è iniziata a fare questa roba internet è peggiorato sempre di più in maniera più inevitabile sarà un modo di riportare su internet boh non lo so io me lo auguro perché internet è uno strumento prezioso internet è una fonte preziosa internet è meraviglioso quello che abbiamo creato è meraviglioso gli utenti che sono qui in maniera non tossica sono meravigliosi però io sono convinto che anche un utente che è sempre stato educato gentile carino simpatico magari non d'accordo com'è meraviglioso capirà perché sto facendo questo video perché magari scrive in commento arriva un altro e gli risponde che un deficiente solo perché non la pensa come lui ragazzi ma dove siamo ma dove siamo 2024 è sarebbe un pochettino un po più svegli secondo me poi sul pallone andiamo nel caso specifico perché adesso abbiamo fatto un caso generale andiamo sullo specifico ma è stato perdere una partita una una è ben persa una sola una partita dopo 11 10 partite non perse una persa finito guerra civile guerra civile se provi a dialogare spiegare un'opinione stai zitto deficiente sono un coglione capisci un cazzo ragazzi dire che la juventus di tiago motta ha un problema sullo sviluppo offensivo non significa mettere in croce tiago motta dire che oggi gli acquisti fatti sul mercato i più costosi perlomeno non si sono rivelati ancora al top significa prendere giuntoli e metterlo in croce però sono cose che credo vadano dette e io credo anche che le persone debbano apprezzare l'onestà intellettuale di una persona che si mette qui di una persona che crede fortemente nel lavoro di giuntoli che crede fortemente nel lavoro di tiago motta che ha grande fiducia in giuntoli e grande fiducia in tiago motta grande fiducia in questo nuovo ciclo di juve perché io ho grande fiducia in giuntoli di agomotta e in questo nuovo ciclo di juve ma credo che sia apprezzabile una persona che ha grande fiducia in questa persona e vi dice ok però attenzione non è che è tutto meraviglioso non è che va tutto bene non stiamo passeggiando su un prato con il sole che ci sorride le caprette che ci fanno ciao siamo in un momento in cui la juve in campionato ha raccolto dei buoni risultati e al terzo posto in classifica a meno tre dalla vetta in champions league ha fatto tre partite due la vinte uno la persa ok se guardiamo sugli risultati benissimo d'accordo non è la juve non è messa male per i risultati però se andiamo a prendere le partite le andiamo a analizzare se diciamo no non è vero la juve non ha problemi nel creare occasioni da gol allora io qua alzo le mani vi dico non siamo assolutamente raccordi non possiamo esserlo e questa è una cosa che va detta ragazzi non è che dobbiamo far finta di niente non è che dobbiamo dire oba quanto abbiamo cambiato allenatore rispetto all'anno scorso quindi adesso va tutto bene non è così e per fortuna tiago motta che è una persona intelligente ed è una persona che il miglioramento lo tiene semplicemente lavorando sul campo questa cosa non la ignora ma voi pensate davvero che tiago motta stia ignorando questa roba voi pensate davvero che tiago motta sia lì a negare che nel momento stia facendo fatica a costruire delle palle gol perché se voi pensate questo allora il problema non è mio che faccio notare questa cosa non è di tiago motta che sta lavorando per risolverlo ma è vostro che siete fatti un film mentale tutto vostro e lottate combattete per fare in modo che le persone non vadano a dire oh occhio però perché per migliorare bisogna sistemare questa cosa no va bene così che cazzo dici allora ragazzi bravi voi cosa vi devo dire sembra un dato oggettivo qualcosa di oggettivo che anche l'altra sera lo stesso allenatore ha ammesso se noi da tifosi invece siamo convinti che questa cosa non sia vera che siamo perfetti così perché siamo terzi in campionato e abbiamo fatto due vittorie in champions allora alzo le mani ma non stiamo facendo un'analisi accurata ci stiamo raccontando vogliamo stiamo creando una realtà a seconda dei nostri gusti delle nostre preferenze perché negare questa roba è dannoso perché significa non volersi mettere nel presupposto di migliorare vuol dire accontentarsi e per definizione di juventus questa roba non si può fare davvero ragazzi io consiglio di prendere il cavo ethernet prendere il telefonino modalità aereo e farvi bel relax bel relax perché se questo è il modo che avete di utilizzare internet e quindi denigrare le idee degli altri e fare passare il messaggio che siete voi dei fenomeni gli altri tutti dei deficienti consiglio è andate a fare una passeggiata anche se non c'è un bel tempo anche se piove ci sono le alluvioni qui da me poi un disastro prendetevi su andate a fare un'altra cosa date a guardare un film andate a mangiare una pizza andate a fare una serata con gli amici un concerto una corsa volete ma questo non è il modo di utilizzare internet non è questo vado un po più nel dettaglio su quelle che è stato l'ultimo video in cui tante persone mi hanno detto guarda per me la difesa 3 non è la migliore delle cose non sono d'accordo con te va benissimo ma io stesso non sono amante della difesa 3 io stesso non sono amante della difesa 3 e ve l'ho sempre detto però in una situazione di emergenza in una situazione in cui i giocatori sono fuori in una situazione in cui per metterti a specchi con l'inter in una situazione in cui la juventus potrebbe avere dei problemi come ci stava ipotizzare una soluzione e non non sai che cazzo di contenuti creare e quindi dici una cazzata questi sono commenti da maleducato e da ignorante che vi qualificano per maleducati e ignoranti e non dovete prendervela per questo richiamo dovreste imparare da questo richiamo e dire cazzo in effetti ho fatto la figura del maleducato e ignorante magari la prossima volta andrò a scrivere la mia opinione senza andare a sminuire quella degli altri anche perché ragazzi intendiamoci se tiago motta mai dovesse decidere nella sua carriera di andare a fare la difesa 3 perché questa è un'altra cosa che ho letto non è che va a fare il 3 5 2 di allegre cioè tiago motta può difendere a 3 a 4 a 5 a 2 a 1 a 0 a 28 che tiago motta mantiene la sua identità di dominio della partita di possesso della palla tutto quello su cui è lavorato tutto quello su cui è basata la juve con la difesa 3 con la difesa 4 semplicemente come ho già spiegato anche in quell'altro video ma probabilmente per alcuni era più facile semplicemente muovere le ditina sporche di nutella sulla tastiera la juventus anche oggi con la difesa a 4 attacca utilizzando una difesa 3 ed era semplicemente un modo per aiutare la juve a rimanere all'interno delle posizioni che devono essere le posizioni offensive senza dover fare delle scalate che in questo momento non stanno funzionando e potrebbero far perdere i tempi di gioco la juventus questo era il motivo per cui avevo proposto la difesa 3 non perché non avevo in mente che contenuto fare non perché non avevo assolutamente nulla da dire quindi ho fatto un contenuto del cazzo non era quello l'idea non era quello il concetto ragazzi se questo è il modo davvero di approcciarsi a internet mi dispiace io dovrò ricorrere a degli strumenti che in dieci anni non ho mai utilizzato con così tanta continuità perché non voglio bannare le persone io credo fortemente nel dialogo credo fortemente nello scambio di opinioni e voglio che i commenti siano pieni di persone che dicano la loro ma se deve continuare ad essere per fortuna da parte di una minoranza ma è una minoranza che fa rumore e purtroppo oggi diventa una minoranza che si sta ampliando perché tante volte all'interno dei video arrivano anche persone che non appartengono a questa community ed entrano esclusivamente con quell'intento di rompere i coglioni mi dispiace dovrò essere costretto ad allontanare queste persone dal canale e non perché voglia privare il canale della loro voce o della loro opinione semplicemente perché una cosa chiedo una singola cosa e cioè rispetto che diventa educazione ma se uno è maleducato nella vita di tutti i giorni non può essere educato su internet così come uno si è educato nella vita di tutti i giorni sarai educato anche su internet una cosa chiedo e se questa cosa viene a mancare mi dispiace non c'ho scritto giocondo non voglio farmi il sangue amaro non voglio mettermi qui a dover fare questi video perché mi vengano due coglioni grossi così perché la gente non capisce quello che dico non vuole capire quello che dico o va a tagliare dei discorsi va a prendere la distorsione del discorso che faccio e giro la frettata dispiace a me questa roba non va bene e dato che il canale è mio le regole sono mie ok non andrò mai a bannare qualcuno che verrà a dirmi non sono d'accordo con te anzi sono i miei commenti preferiti ma andrò ad allontanare tutte le persone che verranno a rompere i coglioni e questo è quanto scusate per questo video ma ci voleva avevo bisogno di far sbollire sta roba qua perché dall'altra sera dal triplice fischio di vento stoccardi è diventato irrespirabile il clima e abbiamo perso una cazzo di partita una una cazzo di partita abbiamo perso e siamo già qui a romperci coglioni non è il modo di vivere il calcio non è assolutamente il modo di vivere il calcio dite quello che volete esprimete le vostre opinioni ma fatelo nella maniera corretta perché non è normale che sia io a dovervi insegnare a essere educati dovevano pensarci i vostri genitori quando era ora ciao e scusate ancora per questo video che so che è brutto ma era necessario perché non ce la stavo più facendo tenere tutto dentro